direttamente dalla storica sala dei monopoli di Stato di Piazza Mastai in Roma questa è l'estrazione di Si Vince Tutto Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione di Si Vince Tutto, il concorso speciale di Super Enalotto. Come sempre Si Vince Tutto Super Enalotto ha un suo monte premi distinto da quello di Super Enalotto che viene interamente distribuito in un'unica serata quella di estrazione tra tutti i vincitori. Per partecipare si scelgono 12 numeri e se ne devono indovinare 6 ma si vince indovinando anche solo due numeri della combinazione estratta. Ad oggi Si Vince Tutto ha già distribuito oltre 98 milioni 400 mila euro e solo nell'ultimo concorso sono stati assegnati oltre 160 mila euro. Scopriamo insieme quale cifra ha raggiunto il mese premi? Oggi mercoledì 24 maggio 155 mila 583 euro. Le operazioni di estrazione sono già iniziate, le 90 sfere numerate per la sestina vincente sono state caricate e con l'autorizzazione della commissione di controllo chiamo Raldia e l'estrazione di Si Vince Tutto Super Enalotto. Le sfere sono scese nell'una elettronica e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo subito a scoprire il primo numero della sestina di Si Vince Tutto Super Enalotto di oggi. il primo numero estratto è il numero 85. Il secondo numero sta arrivando e dopo in poi si comincia a vincere. secondo numero estratto è il numero 25. ora siamo al terzo numero. Eccolo. Terzo numero estratto è il numero 82. via con il quarto! il quarto numero estratto è il numero 84. è giunto il momento del quinto numero, il penultimo. quinto numero estratto è il numero 55. con l'ultimo numero la sestina vincente di questa estrazione speciale sarà completa. il sesto numero estratto è il numero 48. controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione. 85 25 82 84 55 48 controllate bene la vostra ricevuta di gioco perché si vince tutto Super Enalotto. questa sera distribuisce l'intero Montepremi che vale ben 155.583 euro. Ricontrolliamo tutti i numeri strati di si vince tutto Super Enalotto con la sestina vincente in ordine crescente. 25 48 55 82 84 85 l'estrazione di si vince tutto Super Enalotto di oggi mercoledì 24 maggio è terminata. tra pochi minuti scopriremo insieme come verrà distribuito il Montepremi. A fra poco con si vince tutto Super Enalotto. Ben ritrovati. Poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti di si vince tutto Super Enalotto di oggi mercoledì 24 maggio che vi ricordo ha messo in palio oltre 150 mila euro. Il computer ci comunica che sono state assegnate ben 8.500 vincite per un valore di 155.534 euro. Il 6 non è stato centrato ma sono stati premiati migliaia di vincitori. Nessun 6. I 5 sono 4 e vincono 1322 euro ciascuno. I 4 sono 135 e vincono 94 euro ciascuno. I 3 sono 1374 e vincono 41 euro ciascuno. I 2 sono 6.987 e vincono 11 euro ciascuno. Vi ringrazio per essere stati con noi. Si vince tutto Super Enalotto. Vi dà appuntamento a mercoledì prossimo 31 maggio. Arrivederci. A presto. A presto. A presto.